Mettere in dialogo l'arte e l'antropologia per approfondire la figura della donna. Questo è il filo che lega le opere di Wan-Jeki Mutu, ecletica artista che ignota. Negli anni 90 New York studia belle arti e antropologia. La sua ricerca la porta a indagare il corpo femminile delle riviste patinate come Vogue, Marie Claire e Nell. Con una forbice taglia quelle immagini e usa il collage per rovesciare, dilatare, mistificare e amputare così e soprattutto riconfigurare quei corpi. Esalta particolari etnici ed identità perché il corpo femminile porta su se stesso i segni della propria cultura. La Mutu ribalta l'immagine della donna, una donna che diventa camaleontica.